Ecco, sono qua nel posto del memoriale del massacro valdese a Yann Louveron, specialmente a Merindolle, in Francia. Nel 1545, 18 aprile, furono trucidati 3.000 persone, 3.000 figli di Dio, che per la loro fede, per la loro tenacia, per la loro persistenza, la loro fedeltà a colui che ci ha redenti, a colui che ci ama, che è venuto a offrire la loro vita, la sua vita per noi, Gesù, Gesù Cristo. Nel passato i nostri valdesi, anche qui, hanno trovato la morte e la presenza valdese in Francia è stata praticamente sradicata. C'è molto bello, eh? Ecco qua, vedi? Questo è il luogo in cui... Guarda che belle quelle montagne lì. Guarda che belle, 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 guarda che